Non si parla che di lui. Lo strepitoso successo all'europea ha spazzato dubbi e incertezze all'interno del suo partito, dove si sono spente le flebbi di voci degli oppositori. Resiste solo l'eroico Civati, mentre lo stesso Fassina, apostrofato quale Carneade, fa pubblica ammenda e si dichiara conquistato dal verbo del capo. Tragima all'esterno il consenso, svuota i partitini alleati e confonde i nemici a 5 Stelle. Invade il campo degli orgogliosi vicini, conquista il primo cittadino di Napoli, avanza senza freni. Prende forma il partito unico di sinistra, senza particolari sforzi o tavoli di confronto, solo per il naturale fluire degli eventi. Ieri si ricercavano scrupolosamente le divergenze e ci si teneva strette ai propri valori e programmi. Oggi ci si scopre appassionatamente legati intorno a un capitale che non deve andare disperso. Con la generosa disponibilità di Vendola e la santa benedizione di Bagnasco si chiude il cerchio. Sarà lui a risolvere i problemi, a trovare le giuste soluzioni, a tirarci fuori dai guai. Orgoglio dei compagni di partito e anche la speranza degli avversari, perché se i primi non faticano a riconoscere nella sua politica le ragioni del successo, dall'altra parte rappresenta la più facile spiegazione per la sconfitta. Non è stato il PD a vincere, ma il suo leader. Dunque non di una sconfitta ideologica e politica si tratterebbe, ma di un semplice fenomeno inatteso e provvisorio destinato a durare il breve spazio di una contesa elettorale. Si dice così nei confronti televisivi, nelle piazze, nei bar. Anche questo rientra in quel fenomeno politico-sociologico che inizia ad assumere il nome di renzismo. Un fenomeno che dà ragione di tutto, delle vittorie e delle sconfitte, delle delusioni e delle speranze. Un fenomeno sul quale va però fermata l'attenzione per comprendere qualcosa di più di quanto appare in superficie. Cos'è questo renzismo? Cosa ha portato in così breve tempo un personaggio quasi sconosciuto a divenire il devus ex machina, quasi l'uomo della provvidenza, quello su cui puntare per la salvezza del paese? Niente di straordinario verrebbe da dire. Il coraggio di rottamare il vecchio e la ferma volontà di fare quanto sembri utile e necessario, e poi concretezza, linguaggio chiaro e diretto, la capacità di passare dal dire al fare nei tempi giusti e ragionevoli, liquidando la stucchevole reiterazione di discussioni e spiruccamenti. La politica delle cose, insomma, non delle contrapposizioni a prescindere, dei tavoli e delle discussioni interminabili, delle composizioni e scomposizioni delle alleanze. Una politica da far storcere il naso ai parati fini, a chi ambisca dimostrare di saperla più lunga, a quanti confondono chiarezza con semplificazione, tempismo con fretta, decisione con autoritarismo, e che lo definiscono conservatore, democristiano, figlio della destra economica, messo e paladino dei poteri forti. Non sarà facile per Renzi risolvere i problemi del paese, non solo per la loro gravità o per gli scandali che si succedono con drammatica regolarità, ma per il radicato costume politico del nostro paese, che non apprezza le cose semplici e chiare e che ama arzigogolare i mondi astratti e fantastici, dove si continua a discettare del sesso degli angeli e si resta fermi a schemi di valutazione stanchi e obsoleti che non rivestono nessun significato agli occhi di un pubblico alle prese con problemi molto più immediati e urgenti. Fare cose di sinistra o cose utili? E perché non farle nei tempi brevi se veramente necessarie? Seguire i tempi della politica o quelli della gente? Ebbene, Renzi ha individuato il dilemma e ha indovinato la scelta e gli elettori lo hanno ripagato. Ecco il renzismo, concretezza e tempestività, la politica delle cose. Quella che tutti aspettavano, che individua i problemi e li affronta con decisione, che non si perde in tefaticanti discussioni senza fine e senza senso, che rifiuta le verità già poste, che va invece ricercando con onestà di intenti e ostinazione. Una politica che non dovrebbe soffrire di esclusivismo, ma diffondersi invece a destra e a manca nel pubblico interesse. Una politica nella quale personalmente ho sempre creduto, essendo per natura insofferente per il parlarsi addosso e per il pensare strano, per il progressismo dichiarato e la stagnazione dei fatti, per i tempi biblici sprecati per approdare al nulla. Se il voto europeo è il risultato di tutto questo, di una scelta non emotiva ma consapevole, sono veramente guai ai vinti, ai veri conservatori. Perché in tal caso il renzismo non sarà fenomeno momentaneo e la sconfitta non un semplice accidente, ma il segnale di un tramonto definitivo di opzioni e programmi sbagliati. Tornare dunque alle cose e ai problemi della gente, affrontarli con onestà e volontà di risolverli. Questo si pone come indifferibile imperativo categorico. La politica dell'attenzione e dell'ascolto, che si apre e informa perché vuole coinvolgere e risultare utile, che fa dei problemi della gente i suoi problemi e delle possibili soluzioni, le ragioni dell'impegno e della ricerca. Opzioni e scelte che mi portarono ad accogliere sei anni fa l'invito dell'editore di MyBoxTV e che oggi mi impongono di continuare all'interno di un team ridotto nei mezzi ma illimitato nelle possibilità per l'instancabile e qualificato attivismo di Mauro e di Vanessa che condividono la stessa fede e uguali propositi. Nacque da un programma ben preciso questa rubrica settimanale, che sulle questioni cittadine sin dall'inizio pose ben chiari i suoi postulati. Li elencai nella numero 25, che ho ritenuto utile ripubblicare, ma vi sono ritornato nel corso di tante altre puntate successive con chiarimenti e puntualizzazioni ulteriori. La città del Galateo e il suo titolo è quello del progetto. Una città diversa da quella dove mi trovavo a vivere, immobile e silente, chiusa nei suoi confini e lontana da relazioni e reti tra comuni, sospettosa nei confronti delle associazioni e insensibili alla socialità, distratta verso il patrimonio culturale e artistico e incapace di comprenderne l'importanza anche ai fini dello sviluppo e del progresso della città. Ostracismo dichiarato per le attività culturali e di teatro, persino per l'attività di un cittadino costretto a scendere e salire per l'altro riscale per assicurare asilo alle sue opere che avrebbero finito per girare la provincia a guadagnare l'attenzione nazionale del mondo. Ciega dinanzi agli scempi che si andavano consumando nelle piazze e nelle strade per l'incuria alla negligenza, la città offriva al visitatore il deprimente spettacolo di una bella fontana diventata artistica di scarica e di un villaggio santarita che dava il benvenuto con i rifiuti di ortaggi e di bivacchi notturni. È cambiato qualcosa in questi due anni di amministrazione nisi nella nostra città? È stata invertita la rotta? Il programma dell'icastico nome la città del Galateo segue il percorso virtuoso verso quella città pulita, ordinata, solidale? Ecco gli indicatori di qualità utili nelle valutazioni. L'attenzione ai fatti e alle cose, non l'indulgere nelle polemiche, nelle reciproche aggressioni verbali, nelle contrapposizioni giustificate soltanto dai particolari interessi di parte. Ho seguito i vari commissi delle ultime settimane e li ho più volte voluti riascoltare. La cittadinanza può fare altrettanto accendendo ai nostri siti. Non mi hanno particolarmente attratto i giudizi sui risultati del voto, né i tentativi di darne una giustificazione che rendesse immuni da colpe proprie o della propria parte politica. La fantascienza non è il mio forte. Mi sono fermato invece a valutare le più significative cose dette. Avevo ascoltato con piacere Casilli per la profondità delle parole sull'Europa. Ho seguito con altrettanto interesse l'intervento dell'assessore Campa, che citando cose e fatti ha dato chiara testimonianza di un lavoro tutt'altro che derudente, spazzando via le critiche diffuse di scarsa sensibilità per la solidarietà e l'assistenza che rappresentava una delle principali accusa verso l'amministrazione cittadina. Questo naturalmente sino a prova del contrario, che grava però su chi abbia documenti e ragioni per poter dire diversamente. Fatti e non chiacchiere, questo si chiede. E la possibilità di poter autonomamente valutare e quindi di essere informati, perché non deve essere l'avversario l'unico giudice, essendo la valutazione un fondamentale diritto di partecipazione e di democrazia di ciascun cittadino. È indubbiamente un dato significativo il primo positivo risultato della raccolta differenziata, che ci pone tra i nuovi comuni virtuosi e fortunati della provincia su cui non graverà l'ecotassa. E sono cose concrete il parco giochi di Santa Rita e la festa dello sport, che ha coinvolto decine di associazioni e migliaia di persone. Fatti e non sterili polemiche nella dialetta politica. Lasciare da parte, soprattutto nelle periferie, le ragioni ideologiche e i tentativi di ricercare ad ogni costo appigli e virtuosismi per spiegare le sconfitte. Ho detto che i numeri non mentono, parlano chiaro, così come oggettivi e indubitabili sono le cose concrete e i fatti che resistono a qualunque tentativo di volerli fare svanire. Rimangono naturalmente sul tappeto argomenti altrettanto concreti e rilevanti, sui quali l'opposizione deve farsi sentire. Come vivo deve restare l'impegno della Giunta in carica per riflettere sulle cose fatte e per completare il programma. Ognuno faccia il suo. Noi, da parte nostra, continueremo a registrare con attenzione e imparzialità. Saremo implacabili, come sempre, ma guarderemo ai fatti.